musica news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio amette siete alla ripartenza corretta diciamo così fra virgolette non siete più in arrivo dopo una pausa che è sembrato che vi abbiate patito a chieri comunque era una squadra comunque sicuramente di buon livello quella di casa però poi il vero lecco l'abbiamo visto nel secondo tempo quando ho messo giù la testa e ho detto va bene ok iniziamo a giocare anche noi e avete trovato tre gol non con facilità però veramente quando avete voluto affondare siete riusciti ad arrivare al vostro obiettivo ecco hai detto bene il chieri io l'ho incontrato sia l'anno scorso che quest'anno con la sarebense una squadra veramente buona di ottima tecnica anzi per il campionato che hanno fatto non me lo aspettavo neanche perché io pensavo che arrivassero almeno il secondo ecco noi come squadra se facciamo l'eco come ho sempre detto non ce n'è per nessuno nel secondo tempo nel primo tempo capita che sbagli i primi tempi perché capita a tutti quanti capita a tutte le grandi squadre noi il primo tempo non siamo stati l'eco che abbiamo sempre visto invece nel secondo tempo siamo siamo usciti fuori con una bella squadra con gli esterni che andavano veramente ad attaccare con Riccardo che è riuscito anche a trovare il gol e quindi l'eco quando fa l'eco dopo non ce n'è per nessuno si è subentrato nella fase un po' più calda della gara l'ultimo classico quarto d'ora quello in cui bisogna comunque tenere il più possibile la palla alta una cosa che ti è riuscita chiaramente non è stata la classica palla giocata lunga dalla difesa quella che ha portato al terzo gol del Chieri sì diciamo che l'arbitro non me ne ha fiscato tanti perché su quattro su quattro palle mi ha fiscato sempre contro per noi quei palloni lì sono importanti perché tenere una palla in fase d'attacco dove la partita manca 5 minuti o 2 minuti per noi è importante una palla fondamentale se l'arbitro non te lo fischia dopo diventa un problema per la squadra perché se tu dai un'opportunità alle altre squadre di attaccarti quindi puoi prendere gol ed è così è successo abbiamo preso gol all'ultimo ed è stato un peccato su 3-2 21 punti da fare a disposizione 7 punti da fare l'ostresa alle porte quindi sicuramente non la partita della vita è una partita da affrontare molto con attenzione l'abbiamo visto negli altri gironi soprattutto nel di il Pergo prima e il Modena poi perdere contro l'ultimo in classifica quindi la figuraccia è sempre dietro l'angolo è ovvio devi andare sempre con la testa e la mentalità giusta noi per quello che riguarda noi me e la squadra vedo una squadra sempre motivata sul pezzo quindi veramente non ho paura non ho paura di affrontare la stresa e credo che i ragazzi lo sappiamo tutti anzi abbiamo l'ansia di raggiungere subito l'obiettivo e poi dopo che l'abbiamo raggiunto noi continueremo comunque a voler vincere tutte le partite c'è un possibile record che potete raggiungere? esatto c'è un possibile record poi dobbiamo andare a Sanremo mi piacerebbe anche a me vincere là e c'è Pol Scudetto dipende le motivazioni sono tutte nella vita ecco quando anche vinci vinci e poi ti lasci andare e dopo perde anche l'entusiasmo perde un po' di cose io personalmente per il momento vedo una squadra che è sempre sul pezzo grazie Matt buon lavoro grazie a te music news sport every day for you on the web lecochannel.it the blue light blue radio